Oggi voglio andare a provare con voi i nuovi colori che ho preso delle matite di Nabla le matite per le labbra ovviamente allora voglio iniziare con ovviamente la numero Nude 2.5 come vedete si stendono facilmente e questa è la numero 2.5 scusate ho fatto un errore la più chiara in realtà che ho preso è la 1.5 ma poco importa l'andiamo comunque a provare e questa qua dovrebbe essere proprio naturale e questa è la 1.5 proprio nature quella dopo è la 3.5 già stiamo andando verso lo scuro questa per esempio sta bene con questo make up ed è la 3.5 che è un pochino più malva ho preso poi la 4.5 che è questa qui medio scuro diciamo così 4.5 l'ultima che vado a mettere è la 5.5 che è la più scura oltre la 6.5 che io non ho preso perché sono colori troppo scuri già avevo l'altra 6 che utilizzo pochissimo e la vado a mettere e questa è la 5.5 che è bellissima allora come concludere su queste matite io le adoro perché mi piacciono tantissimo sia per la durata che per le colorazioni che per la loro scrivenza e per la loro morbidezza infatti sono perfetti anche per andare a riempire le labbra esattamente come ho fatto io con tutte loro fatemi sapere se l'avete provate